Cari Lucani, è buona tradizione rivolgere a tutti voi il mio augurio per un buon fine anno e soprattutto per un buon 2024 all'insegna della serenità e di un futuro migliore. Questo augurio implica un rinnovato impegno da parte mia e del centro-destra affichere condizioni di vita economiche e sociali migliorino anno dopo anno, operando per rimuovere il prima possibile gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Dati alla mano siamo riusciti a limitare i danni derivanti dal Covid meglio che in altre regioni e a dare nuovi stimoli per la ripresa dell'economia e della società. È in crescita il reddito medio dei nostri cittadini, il che smentisce la descrizione negativa che cercano di fare le vecchie classi dirigente già bocciate con il voto del 2019. Che qualcosa sia cambiato ben lo sanno le famiglie Lucane, che hanno visto le promesse fatte mantenute. Avevamo promesso che avremmo fatto il bonus gas e lo abbiamo fatto. Avevamo detto che questo beneficio sarebbe durato nove anni e così è. Avevamo promesso di abbattere il costo dell'acqua per numerose famiglie, circa 70 mila, e dal primo gennaio del 2024 questo impegno è realtà. Ci eravamo impegnati per dare più risorse alle imprese per sostenerle, facilitarne la crescita, sostenere l'occupazione e lo stiamo facendo. Tutto questo con un risultato ulteriore, quello di aver registrato la minore inflazione tra le regioni italiane, difendendo così il potere d'acquisto delle famiglie Lucane. Queste scelte politiche sembrano non piacere al vecchio potere. La differenza culturale è che noi ci fidiamo della gente, della loro capacità di scelta e ben sappiamo quanto sia importante ogni euro che rimane in più nelle tasche dei nostri concittadini. Noi sappiamo che la Basilicata non si salva con la sola politica, ma con lo spirito di sacrificio del nostro popolo, con la capacità di ciascuno di fare il proprio dovere, di svolgere con onestà e impegno il proprio lavoro. A noi spetta creare le condizioni di contesto che facilitano il lavoro di chi vuol fare, di chi crea occupazione e aiutare al contempo i più deboli, chi non ha lavoro o rischia di perdere il lavoro. Ma il cambiamento non si fa in un momento. Non ha la velocità di una folgore, ma è frutto di tenacia, di continuità nel portare avanti una chiara visione del futuro. Un futuro basato sulla capacità di generare ricchezza, valorizzando tutte le risorse di cui disponiamo. Le nostre risorse idriche, le nostre fondi energetiche, il nostro patrimonio paesaggistico e culturale, la nostra capacità produttiva, il talento dei nostri giovani. Ho sempre diffidato di chi si propone come un mago che tutto trasforma, soprattutto quando a sostenerlo ci sono quelli di prima che avrebbero potuto fare molto di più e non lo hanno fatto. A cominciare dalla sanità, fortemente segnata da scelte sbagliate a cui stiamo cercando di porre rimedio, mettendo in campo una rete di medicina territoriale, prevedendo la presenza di infermieri di comunità, con l'abbattimento delle liste d'attesa, con nuovi responsabili ai vertici delle strutture e aziende sanitarie, valorizzando le eccellenze che pure non mancano nel nostro sistema sapitario, con l'apertura della facoltà di medicina, realtà che ho voluto con tutte le mie forze. Con la stessa determinazione stiamo affrontando altre fondamentali questioni, come i problemi posti dalla trasformazione produttiva dell'industria automobilistica, cercando ogni possibile strada per difendere il lavoro e i lavoratori. La sfida della transizione ecologica, con l'ambizione di giocare un ruolo da protagonisti nella produzione di energia pulita. Quella delle infrastrutture strategiche, come l'alta velocità, compulsando i ministeri e il governo affinché la Basilicata non sia tagliata fuori. Con la realizzazione di opere che avvicinano di più il Potentino e il Materano, il completamento delle infrastrutture fisiche e digitali affinché nessun borgo sia escluso. Ci siamo inoltre fatti promotori che è prima tra le regioni meridionali di una zona economica speciale estesa anche all'industria culturale e creativa, rilanciando il ruolo di Matera e la reputazione conquistata con il riconoscimento di Capitale della Cultura Europea 2019. E siamo impegnati nel sostenere il ruolo di potenza città-capoluogo con importanti investimenti sulle infrastrutture sportive e con altri interventi di potenziamento della sua rete di servizi. Disegnare uno sviluppo su base territoriale è l'idea cardine che anima un disegno in pieno svolgimento di rafforzamento del sistema economico e produttivo, a partire dal metapontino e di rilancio del potenziale del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, territori suscettibili di notevole sviluppo. Ogni territorio ha una vocazione che va ben esplicitata, dalla Val d'Agri al Pollino, alla Collina Materana, alla Costa Ionica, sino a Maratea. Una vocazione produttiva ma anche turistica, come dimostrano i risultati positivi raggiunti in questo settore. In generale si tratta di cambiare prospettiva. Non la spesa pubblica a qualunque costo, ma selezionare gli interventi sulla base del ritorno occupazionale. Questo per noi vuol dire cambiamento. È su queste basi che si può alimentare un sogno lucano, una concreta prospettiva di futuro. Sul nostro cammino abbiamo incontrato molti ostacoli, alcune incomprensioni, né sono mancate cadute ed errori. Solo chi non fa, non sbaglia. Ma l'amore e il senso di gratitudine che porto, soprattutto per la gente semplice della Basilicata, che tutti i giorni fa il proprio dovere, che lavora e lotta per una vita migliore, ha rinnovato in me ogni giorno la forza per ripartire, per continuare a fare meglio e di più nel solo interesse dei lucani. A fare il possibile perché cresca la fierezza e l'orgoglio di sentirsi lucani. Viva i lucani, viva la Basilicata! Viva i lucani, viva i lucani, viva i lucani!